Ciao, benvenuta e benvenuto sul podcast di Italian Time Zone, Learn Italian with History. Io sono Giulia, la tua insegnante d'italiano e oggi ti racconto cosa succederà nella stagione quattro del podcast. Buon ascolto! C'è un periodo della storia italiana che viene spesso dimenticato o comunque liquidato, cioè descritto in poche parole. Ed è quel periodo storico che vede l'Italia unita per la prima volta dal punto di vista geografico e politico, anche se appunto ancora non c'erano tutti i territori che fanno parte dell'Italia di oggi. Quindi quell'Italia che esce dal 1861 come regno d'Italia e che va diciamo fino al periodo della prima guerra mondiale. Perché si sa, le guerre mondiali sono invece periodi molto studiati e molto conosciuti e li faremo anche noi, li esploreremo anche noi insieme sul podcast di Italian Time Zone. Però per arrivare a capire bene il Novecento e soprattutto per capire la società italiana di oggi è fondamentale continuare il discorso sul risorgimento e andare oltre quella che è la data simbolo di questo periodo storico, il 1861. Sì perché, come dicevo nei primi episodi dedicati al risorgimento italiano della stagione 2 di questo podcast, non possiamo ridurre tutto ad una data, non possiamo pensare di capire l'unità d'Italia pensando solo ed esclusivamente alla spedizione dei mille di Garibaldi e all'unità politica dell'Italia. L'unità italiana è un percorso complesso, difficile da comprendere e molto dibattuto ancora oggi nel 2023. E la domanda che mi facevo con la stagione dedicata al risorgimento italiano la faccio ancora oggi. Unità d'Italia o Italia unita? Questo per me rimane sempre il cuore, il nocciolo della questione. Perché non dobbiamo mai smettere di collegare il passato con il presente e di usare questa nostra conoscenza per pensare anche al futuro. All'interno del corso completo dedicato al risorgimento italiano, infatti, ci sono due podcast inediti, quindi non pubblicati su queste piattaforme, in cui parlo con una collega, una carissima collega, Simona di Learnilango, proprio dell'Unità d'Italia e di quanto l'Italia sia ancora divisa oggi dal punto di vista sociale. Sono due episodi veramente ricchi di informazioni veramente interessanti. Uno guarda di più al lato tecnico della questione, quindi è un episodio dedicato alla cultura italiana dal punto di vista dei fatti delle migrazioni, degli stati che componevano l'Italia prima dell'unità, di numeri, insomma è ricca di informazioni più tecniche. Invece l'altro episodio è una lunga chiacchierata di un'ora, o forse qualcosa in più, tra me e Simona, in cui andiamo a confrontarci su quelle che sono le differenze e le somiglianze che ancora oggi ci sono tra il nord e il sud Italia. Sì, perché io, Giulia, vengo dal Piemonte, quindi dal nord Italia e Simona viene dalla Puglia, quindi dal sud Italia. Quindi se vuoi ascoltare queste conversazioni, se vuoi parlare in italiano di questi argomenti e se vuoi esplorare, capire di più questo argomento, cioè il risorgimento, ti invito ad entrare nel corso dedicato al risorgimento italiano, l'unico corso di storia italiana per studenti di italiano. Questo corso contiene 11 podcast con le loro trascrizioni e 14 workbooks, quindi 14 quaderni di lavoro per praticare il tuo italiano con tantissime domande. Lo trovi a disposizione sul mio sito italiantimezone.com oppure al link in descrizione di questo episodio. Ma torniamo a noi. Di cosa parla quindi la stagione quattro di questo podcast? Italian Time Zone, Learn Italian with History. In questa nuova stagione del podcast andiamo ad esplorare quella storia d'Italia che comprende gli anni tra il 1861 e l'inizio della prima guerra mondiale. Questi sono anni fondamentali per la costruzione dell'Italia e anche degli italiani. C'è infatti una celebre frase attribuita a Massimo D'Azzeglio che dice fatta l'Italia dobbiamo fare gli italiani. Devo dire che questa frase viene riportata in forme diverse, viene anche attribuita a persone diverse, ma l'importante secondo me è il concetto dietro questa frase. Cioè il fatto che l'Italia era stata più o meno fatta dal punto di vista geografico e politico. Certo mancavano dei territori, ma sicuramente gli italiani erano lontani dall'essere uniti. Basti pensare alle divisioni linguistiche di cui parliamo sempre con Simona nel corso dedicato al risorgimento italiano. In questa stagione quindi dedicata al post unità d'Italia andiamo a vedere sia le politiche interne dei nuovi governi italiani con la destra storica, la sinistra storica, quello che viene fatto sia dal punto di vista socio-economico all'interno dell'Italia sia dal punto di vista della politica estera. Faremo anche molta attenzione a quello che succede nel mezzogiorno, quindi nel sud Italia, cercando di capire la cosiddetta questione meridionale. E come sempre tra storia e memoria non mancheranno le curiosità legate a monumenti e infrastrutture che possiamo vedere ancora oggi. Insomma, una stagione davvero ricca che ti aiuterà a conoscere sempre di più la storia e il passato del paese Italia e degli italiani e delle italiane ovviamente. Alla fine di ogni episodio ti lascerò anche una domanda che potrai usare per praticare il tuo italiano in modo attivo. Infine ti informo che sono a disposizione le trascrizioni degli episodi di questa stagione 4. Segui il link in descrizione o contattami al mio sito italiantimezone.com. Grazie di cuore per essere qui e buon ascolto!